Maracaibo, mare forza 9, fuggire sì ma dove? Zaccà! Riccione, spiaggia 61, ora è mezzogiorno a meno 10, come potete vedere è successo il patatrà. Stanotte la mareggiata ha riempito completamente tutta la spiaggia ad alghe. Il comune è intervenuto però con grandissimo ritardo, danneggiando sicuramente la clientela. Abbiamo qua il gestore della spiaggia. Enrico Il Bagnino, Enrico buongiorno, come va? Tutto bene? Benissimo. Vogliamo dire due parole in merito a questo intervento in ritardo del comune? Perché è ritardo, è mezzogiorno. Beh, dico mezzogiorno, comunque la tua clientela si è lamentata. Scusate, ci sono anche persone che guardano il cantiere con braccia dietro la schiena, persone di una certa età. Enrico, è uno schifo, diciamo la verità. È uno schifo che i Bagnini non abbiamo raccolto un rastrellino. Ma di fatti stamattina stavamo discutendo proprio di questa cosa. È compito dei Bagnini rastrellare il bagnasciuto. Una volta lo facevate? Sì, ma no, non avevo il Bagnino. C'è chi l'ha già battezzata l'Alga Viagra. Che ci sia un business occulto dietro questa mareggiata. Infatti per me vi dovrebbe sparire le babuzze. Arriccione. Un'altra volta. Grazie a tutti.